Primo tavolo ufficiale del centrodestra con i partiti e le liste che sostengono la candidatura a sindaco di Ciroborriello nella città di Torre del Greco. Ieri sera il primo incontro nella sede di Fratelli d'Italia in via circunvallazione, un momento di confronto finalizzato a stilare il programma di governo. La sfida per i prossimi anni è importante, le parole di Ciroborriello, bisogna formare al Comune un ufficio di progettazione e investire sulle professionalità. La classe dirigenziale deve farsi carico in prima persona dei problemi della città. È una battaglia a viso aperto perché siamo forti delle nostre ragioni. La sfida che abbiamo per i prossimi anni è importante nel senso che ci saranno sicuramente finanziamenti PNR che non so a questo punto cosa si uscirà ancora a captare, a catturare e cosa invece abbiamo definitivamente perso. Una delle mie idee che metto a disposizione ma in discussione con gli altri è quello di ritornare a formare nel Comune un ufficio progettazione. Credo che sia la cosa fondamentale. Credo che il Comune di Torre del Greco deve assolutamente investire sulle professionalità. Credo che la meritocrazia deve essere rimessa al centro dell'attenzione dell'attività della nuova amministrazione e credo soprattutto che alcuni, tutti i settori devono un po' cambiare tonalità. Ma noi non abbiamo bisogno di dirigenti che hanno paura di fare. Noi abbiamo la voglia di fare, siccome i nostri bracci armati sono i dirigenti, la prima discussione vera sarà fatta sulla classe dirigenziale che adesso sta dal Comune di Torre del Greco. Sarà quasi d'obbligo rimescolare un po' le carte per tutti quanti. E credo che da là bisognerà partire. Una classe dirigenziale che sia avulsa dei problemi della città, che tende solo a difendere la propria posizione, io credo almeno con me non hanno mai avuto vita facile. Io voglio una classe dirigenziale che si fa carico in prima persona dei problemi della città. Battaglia che noi affrontiamo a visi aperte non abbiamo pura di nulla perché siamo forti delle nostre ragioni. Noi siamo forti delle nostre ragioni, lo posso dire a voce alta. Salvatore Quirino stasera qui alla sede di Fratelli d'Italia, il primo tavolo ufficiale di tutte le forze che sostengono la candidatura a sindaco di Ciro Borriello. Primo tavolo ufficiale del centrodestra con le liste collegate alla candidatura di Ciro Borriello. Siamo, voglio dire, onorati di avere tutti i ospiti qui nella nostra sede. Il primo tavolo ufficiale parte dalla sede di Fratelli d'Italia. Questo per noi è motivo di orgoglio. Un tavolo di confronto su quelli che saranno i temi e su quelli che saranno gli argomenti del programma di governo per la prossima giunta a Borriello, speriamo. Quali sono i temi principali di questo programma di governo? Il tema più importante del programma di governo sarà sicuramente quella che è una giusta allocazione delle risorse derivanti dal PNRR con un efficientamento energetico che va di pari passo con quelle che sono la risoluzione dei problemi atavici della città. Penso quelli legati al servizio di igiene urbana, quello legato alla viabilità e quello legato alle fonti rinnovabili per avere diciamo un'autonomia energetica. Dall'inaugurazione di questa sede qual è stata finora la risposta dei cittadini? Abbiamo creato un centro di prossimità per quelle che sono soprattutto le nuove eleve, quindi i giovani che qui in sede con il nostro appuntamento quindicinale legato alla scuola di formazione hanno creato un certo movimento e quindi sono per noi motivo di incentivo ad andare avanti con questi momenti formativi legati soprattutto a loro. L'obiettivo di questa serata è sicuramente improntare il tavolo per la costruzione di un programma unitario di tutta la coalizione in modo da poter portare la città al suo valore originale che sicuramente non è quello che stiamo attraversando negli ultimi cinque anni. Abbiamo tanti punti di cui parlare, tanti punti da affrontare, tante sfide da dover vincere e abbiamo cinque anni di tempo per poterle affrontare e per poterne uscire al meglio e per dare a Torra del Greco il vanto e il lustro che merita la quarta città della Campania. Luca Lini, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, dopo l'inaugurazione qui della sede è partito anche un importante e ambizioso progetto politico sul territorio, la scuola di formazione politica. Come stanno andando questi incontri? L'idea di creare una scuola di formazione politica la stiamo portando avanti con tanto sacrificio e tanta fatica ma devo dire che il coinvolgimento da parte sia di coloro che devono tenere le lezioni sia dei ragazzi, anche dei meno ragazzi che devono ascoltare la lezione è stato veramente un grande successo. Grazie